I cambiamenti climatici in atto ci impongono di ripensare tutte le nostre attività in un'ottica di ecosostenibilità. La velocità dei mutamenti dovrebbe spingerci a farlo più rapidamente di quanto non stia effettivamente accadendo, ma i passi in avanti ci sono e continuano ad aumentare, come emerge da quadro Great Italy 2019 di Fondazione Simbola e Union Camere, giunto alla decima edizione. Record di eco-investimenti per il 2019 Il 2019 ha segnato il record di investimenti nella green economy secondo Great Italy. In particolare, le imprese ecosostenibili sono quasi 300.000 e dal 2015 al 2018 oltre 432.000 aziende italiane hanno investito, o previsto di investire, per contenere l'impatto ambientale, risparmiare energia e ridurre le emissioni. A sostenere la green economy sono soprattutto gli imprenditori più giovani, il 47% delle imprese amministrate da under 35 hanno fatto eco-investimenti, contro il 23% delle aziende over 35. Secondo il rapporto, le imprese green sono più propense alle innovazioni, il 79% delle eco-investitrici ha sviluppato attività di innovazione, contro il 61% delle non eco-investitrici. I numeri dei green job insieme agli investimenti sono cresciuti anche i cosiddetti green job, professioni finalizzate a produrre beni e servizi ecosostenibili o a ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi. Secondo il rapporto, infatti, nel 2018 il numero dei lavori verdi in Italia ha raggiunto quota 3.100.000 unità, rappresentando il 13,4% del totale dell'occupazione complessiva. Inoltre, solo tra il 2017 e il 2018 i lavoratori green sono cresciuti di oltre 100.000 unità, con un aumento del 3,4%, ben superiore al più 0,5% che interessa le altre figure professionali. Le professioni del futuro e green job spesso non sono posizioni nuove nel mercato del lavoro, ma nuovi modi di vedere una professione tradizionale. Le nuove posizioni infatti guardano più al come che al cosa si fa, rispecchiando la centralità che la sostenibilità ambientale ha assunto nei settori di produzione. L'ultimo rapporto Great Italy ha delineato 10 figure professionali nuove e destinate a una rapida crescita nel prossimo futuro, individuando lavori che spaziano dal settore dell'energia a quello dei rifiuti, passando per la professione di cuoco green, attento all'utilizzo di prodotti biologici e alla riduzione degli sprechi, e di informatico ambientale. Secondo il rapporto, nel prossimo futuro pure ai giuristi d'azienda e agli esperti di contabilità saranno richieste competenze specialistiche e certificate in materia di sostenibilità ambientale. Anche agli installatori di reti elettriche o di impianti di condizionamento saranno richieste competenze in materia ambientale e di efficienza energetica, così come ai meccatronici e ai meccanici industriali. Infine, è ormai assodato che la figura dell'ingegnere energetico si stia affermando sempre di più negli ambiti industriale, civile, agricolo e dei trasporti. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e, o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S.A. 6b, Roodoo Fortnieder-Gwenwood, L2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.pict.e nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietà tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare. Quanto diminuirevi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICTE nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICTE Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICTE Asset Management. PICTE non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICTE. Unicamente per finalità illustrative.